Tre preghiere per invocare lo Spirito Santo Spirito di Sapienza, ti adoro. Fammi conoscere la vanità delle cose terrene e l'importanza delle celesti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito di Intelletto, ti ringrazio. Illumina la mia mente nella fede, perché essa mi sia guida in ogni azione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito di Consiglio, ti lodo. Fammi docile sempre, alle tue sante ispirazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito di Fortezza, ti benedico. Spirito di Fortezza, ti benedico. Rendimi invincibile alle tentazioni e dai nemici dell'anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito di Pietà, ti prego. Fammi la grazia, che le mie orazioni siano più fervorose e più raccolte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito di Santo Timore, ti amo, che mi ricordi dappertutto, della presenza di Dio, per amarlo dappertutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda il tuo Spirito ed essi saranno ricreati e rinnoverrai la faccia della terra. Preghiamo. O Dio, che hai ammaestrato i cuori dei fedeli con la luce dello Spirito Santo, dà a noi di gustare ciò che secondo il medesimo Spirito è bene e di godere sempre della sua consolazione. Per il Signore Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Preghiera per la Pentecoste Tu, oh Maria, sei unita nella preghiera con gli apostoli nel Cenacolo. Lì, per opera dello Spirito, dono di Cristo risorto, nasce la Chiesa, comunità di amore, in cui ogni barriera fra gli uomini viene abbattuta. Questa è la missione della Chiesa, e di ogni cristiano per riconciliare gli uomini con Dio e tra loro, per fare dell'umanità intera, una comunione di persone. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Signore, lo stesso Spirito Santo, che era sceso su Maria per far nascere in lei Gesù, figlio di Dio, scende di nuovo su di lei e sugli apostoli nel Cenacolo per dare vita alla Chiesa, corpo mistico di Cristo. Concediti, preghiamo, che i cristiani siano nel mondo segno e forza attiva di unità fra tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera degli sposi nel giorno della Pentecoste Spirito Santo, fate che nella nostra vita di sposi possiamo imitare l'unione che esiste fra Cristo e la Chiesa e che sappiamo essere testimoni dell'amore sponsale e paterno di Dio per le anime nostre. Amen.